Al via lo screening nelle scuole medie e superiori pesaresi, questa mattina siamo venuti alla scuola media Pirandello dove l'adesione è stata altissima, così anche negli altri istituti. Il primo giorno di screening nelle scuole medie pesaresi per studenti, insegnanti e personale ATA registra un'affluenza che va oltre il 70%. Questa mattina è toccato alle scuole medie Dante Alighieri, Nuova Scuola, Tonelli, Galilei, Pirandello ed Olivieri. La macchina ha funzionato. Nelle palestre dei vari istituti sono stati adibiti gli spazi per fare i tamponi, raggiunti dagli alunni senza che si creasse alcun tipo di assembramento. A fare il tour tra gli istituti, già dalle prime ore di questa mattina, anche il sindaco Matteo Ricci, che ha commentato così la grande operazione avviata dal comune. La dimostrazione è che una scuola sicura si può fare se c'è uno screening periodico. Ormai lo diciamo da mesi, ci siamo sgolati. Avevamo immaginato che alla prima difficoltà si sarebbero richiuse le scuole, è quello che sta avvenendo in tutta Italia. Credo che la chiusura delle scuole debba esserci soltanto in casi estremi, quando non si può fare altro, quando tutte le altre strade sono state provate. Quella dello screening agli studenti è l'unica strada per poter avere una scuola sicura. È un problema che poniamo alla regione da mesi, del tutto inascoltati. C'è un'opportunità da cogliere. È chiaro che quando vai nelle scuole, come stiamo facendo oggi, l'affluenza si alza, soprattutto se i presidi, gli insegnanti spingono in questa direzione. Quando invece fai un punto unico dove devono andare tutti, è chiaro che l'affluenza naturalmente si abbassa. Vogliamo fare di Pesaro uno dei luoghi più sicuri dal punto di vista scolastico. E tra i primi a tamponarsi alla Pirandello, anche la preside Cinzia Biagini. È l'unico strumento che ci consente di avere il polso della situazione nel momento attuale e che ci garantisce l'attività in presenza, perché il mondo della scuola sta difendendo l'attività in presenza. Vogliamo finire la scuola in presenza. Noi abbiamo sempre lavorato in presenza e vorremmo continuare così fino a giugno. La grande operazione avviata dal comune di Pesaro, assieme ad Ail Croce Rossa Protezione Civile, con il sostegno di Aspes e dei dirigenti scolastici, è proseguita anche nel pomeriggio di oggi al campus, dove dalle 14 alle 20 si sono sottoposti allo screening educatrici, docenti e personale ATA di NIDI, scuole dell'infanzia e primari. Da domani, venerdì 5 marzo, le operazioni proseguiranno. Dalle 8.30 alle 13 saranno tamponati gli studenti, insegnanti e personale ATA delle scuole medie Leopardi, Gaudiano e Manzoni. E nel pomeriggio, dalle 14 alle 20, toccherà agli studenti ed insegnanti delle scuole superiori di Pesaro.